Solo il primo, uno, due, tre. Loro sono fra i primi tre o solo il primo passa e va a Las Vegas? Lasciami fra i primi tre. Io non me la voglio andare. Loro sono i primi tre. Aspetta. Questa cos'è? Tre? Sì. Terzo. Chissosa. Non si male. La musica. Non è così. No, non è così. No. No. Non è così. No.